Mi sono un risultato che lascia un po' di amaro in bocca per quanto ho visto in campo. Il Verona ha fatto una bella partita, approcciata bene, con personalità, nonostante fosse una partita difficile contro i campioni di taglia in carica. Qual è la tua analisi? Sono molto soddisfatto della risposta della squadra. Eravamo tutti un po' curiosi perché ogni anno quando si cambia tanto c'è sempre un po' di curiosità per capire a che punto eravamo con la preparazione, con l'inserimento dei nuovi in squadra e devo dire che la risposta è stata ottima. Al primo tempo abbiamo approcciato benissimo, abbiamo avuto anche la fortuna di fare gol subito, ma poi abbiamo continuato a pressare, a giocare, a creare. Peccato non aver fatto il secondo. Poi al secondo tempo ovviamente loro hanno cambiato qualcosa, si sono alzati un po', ci hanno messo un po' più in difficoltà, però comunque eravamo abbastanza in controllo. Poi Leone ha fatto un grandissimo gol purtroppo, è andata così ma io sono contento della prestazione. È un Verona che ha dimostrato di saper approcciare bene la partita, di iniziare appunto con personalità il match di oggi ma anche quindi il campionato. Sì, sì, come ho detto prima, volevamo iniziare bene, avevamo contro i campioni d'Italia, che è sempre bello giocare contro una squadra che ha lo squadetto sul petto, i ragazzi erano carichi, l'hanno dimostrato sin dall'inizio, tutti quelli che sono scesi in campo, ma ho visto anche grande partecipazione della panchina, quindi vuol dire che il gruppo si sta costruendo bene. Dobbiamo continuare così, lavorando e solo così otterremo dei risultati. Grazie. Grazie a te.